Presidente Fugati, che cosa è immerso dall'incontro tra i presidenti e delle province autonome? La richiesta al governo di rivedere il sistema delle colorazioni, che oggi è superato rispetto all'evoluzione della pandemia e anche difficilmente compreso dai cittadini. Una semplificazione poi sul tema della gestione delle scuole. In Trentino abbiamo provato ad essere anche un po' più larghi rispetto ai criteri nazionali, ma è oggettivo che ci sono problematiche pesanti per le famiglie e per il sistema scolastico. Dopodiché abbiamo chiesto la soluzione del problema del Green Pass turistico per gli stranieri, che rischia di mettere in difficoltà il sistema turistico trentino. Va detto che su quest'ultimo punto il governo pare intenzionato di intervenire a breve.